Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su questo nuovo video di cicloturismo. Io sono Davide Petrini e oggi, ahimè, ho l'amaro compito di parlarvi di un argomento un po' particolare. Sto parlando del richiamo che Specialized, con il comunicato del 12 ottobre scorso, ha fatto su tutti i modelli di Specialized SL7 in produzione dal luglio 2020 fino ad agosto 2021. Allora, diciamo che non è mai una cosa bella quando c'è un richiamo su un componente, né per il produttore né tantomeno per l'acquirente. Il richiamo, che è volontario di Specialized, cioè ovvero non è stata obbligata dagli organi, diciamo così, preposti alla sicurezza dei consumatori, ma è stata la stessa Specialized a far presente il problema, riguarda il potenziale danno al tubo della forcella a seguito di un impatto significativamente violento con la ruota anteriore. Una volta che Specialized ha individuato il problema, ovviamente ha messo sotto torchio il team di ingegneri per arginare il problema e cercare ovviamente una soluzione. Questa soluzione è stata trovata con un nuovo espander e un nuovo collarino. In sostanza non si ha più quella pressione che prima si aveva sullo stelo della forcella. Una volta trovata la soluzione, una volta appurato che la soluzione ovviamente risolveva il problema, Specialized ha sottoposto, diciamo così, la soluzione agli organi preposti, i quali hanno dato il via libera alla commercializzazione dei nuovi componenti. A quel punto Specialized ha diramato il comunicato, firmato in data 12 ottobre, non soltanto sul suo sito internet, non soltanto sui suoi canali social, ma anche a tutta quella rete di acquirenti Specialized L7 che avevano registrato il prodotto e che avevano lasciato un contatto telefonico o una mail a Specialized. Il secondo step è quello di iniziare a dotare tutti i fornitori ufficiali Specialized o i rivenditori ufficiali Specialized o i centri, diciamo così, di riparazione e manutenzione Specialized dei nuovi componenti. Non solo Specialized è andata anche oltre, offrendo il controllo a 360 gradi sulla parte anteriore della bicicletta e andando a verificare se c'era stato o meno una compromissione dello stelo della forcella. Nel caso in cui, diciamo così, il meccanico avesse notato che sull'SL7 di un cliente ci fosse stato un danno, Specialized non solo avrebbe fornito nuovi componenti, ma avrebbe rimborsato e sostituito il componente danneggiato, cioè la nuova forcella. Quindi ragazzi, se avete fra le mani una SL7, il consiglio che vi diamo è quello di non pedalare per evitare che ci siano future rotture, ma di portarla immediatamente in un centro Specialized autorizzato. Sanno già qual è il problema, in men che non si dica metteranno le mani sul componente, diciamo, sotto controllo, hanno già tutti i componenti per effettuare la riparazione e in men che non si dica vi restituiranno la bicicletta per tornare a pedalare in tutta sicurezza. Bene ragazzi, per oggi direi che è tutto, noi come sempre ci vediamo al prossimo video, buon allenamento, alla prossima, ciao!